Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Andreas Müller, noto ballerino e coreografo, sta affrontando un periodo di grande dolore. A distanza di un anno dalla perdita del caro zio Salvatore, ha annunciato su Instagram la scomparsa di un'altra figura fondamentale nella sua vita. Un evento che lo ha colpito profondamente e che ha condiviso con i suoi fan attraverso un messaggio straziante. Solitamente quando mi assento è per due motivi, non mi sto annoiando o sto mai, ha confessato Andreas sui social. Inaspettatamente, nello stesso anno, mi ritrovo ad elaborare un altro lutto arrivato così, di botto, in un giorno di tanti sorrisi. Parole che trasmettono il profondo sconforto del coreografo, alle prese con un altro dolore inaspettato e difficile da superare. La persona scomparsa è Maria, nonna di Andreas, venuta a mancare all'improvviso. Per lui, la sua nonna era una figura di riferimento e ora lascia un vuoto che sarà difficile colmare. Tra la commozione e il rimpianto, Andreas ha trovato però un motivo di conforto. Tra le lacrime sono felice di una cosa, essere riuscito a farle conoscere le mie figlie, Ginevra e Penelope, portandole in Calabria a casa sua solo due settimane fa. Un ultimo incontro fortuito e prezioso, un ricordo indelebile che aiuterà a mitigare, almeno in parte, il dolore.